Ci sono parecchie cose molto interessanti, abbiamo trovato parte della dotazione di bordo, quindi gli strumenti che i marinai utilizzavano durante la navigazione, queste tabule scrittorie che erano un vero e proprio diario di bordo, quindi dal punto di vista scientifico è una cosa veramente eccezionale. E poi, ve l'ho accennato prima, questo lucernario a forma di dodecaedro, che è una forma molto particolare, difficile prima di tutto da realizzare, quindi un vaso a dodici facce sostanzialmente, e gli unici esempi conosciuti riguardano questi oggetti, che però sono stati rinvenuti soprattutto lungo il Lime Sereno da Nubiano e in Gran Bretagna, ma la funzione non è mai stata chiara e ben interpretata. In questo caso il nostro invece ha la funzione di lucerna, proprio perché abbiamo trovato al di sopra di esso il beccuccio per mettere lo stoppino e spegnere la fiamma ancora perfettamente funzionante, perché era tutto scorrevole, tutto perfettamente conservato, quindi abbiamo la certezza della funzione, in questo caso, di questo reperto eccezionale. Allora, buona parte dei reperti, soprattutto quelli metallici, che sono quelli che hanno bisogno di un consolidamento più immediato, quindi i vasi di bronzo che abbiamo trovato, la lucerna a dodecaedro, si trovano al centro regionale del restauro e sono già stati sottoposti a un primo trattamento di consolidamento. Tutti gli altri reperti sono adesso nelle mani degli specialisti comunque della regione siciliana e della sovrintendenza del mare, che si stanno occupando appunto del consolidamento e del trattamento in vista dell'esposizione. Grazie a tutti.